Ha scioccato l'Inghilterra la storia della giovanissima Danielle Jones, la ragazza morta dopo aver dato alla luce il figlio Danny, una mamma poco più che adolescente, la cui storia è stata raccontata sui social dal fidanzato e padre del neonato, Ozzy, o avuto un bambino, quello che avrebbe voluto Danny e che purtroppo non incontrerà mai, queste le parole del giovanissimo papà. Ora la polizia ha deciso di indagare sulla vicenda per capire cosa sia accaduto alla ragazza dopo aver partorito il figlio Danny, che si trova tuttora ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi riscontrati dopo il parto. Grazie.